La mia moglie, sempre a giocare a quel burraco, la mi vuole portare anche a me, dico ma in che consiste questo burraco? Dice il gioco consiste che tu devi fare delle scale, dico allora è un nei gioco per me. Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! Grazie per la visione!